Non ce la faccio più, mi sento sconocchiare gli alluci dei piedi, non c'ho mica più vedd'anni io, ma hai fatto fare 18 chilometri di spiaggia? Guarda che raccolto di poesie! Ma che me ne frega me? Se te ne fregasse invece non ti accorgeresti di camminare, la donna ti aiuta a tenerti in palla. Ti tiene in balla eh? Andrà! Gisigno! Grazie amico! Signor Canà! È detto che è un fuori classe questo Junior, guarda che piccibili, che coscia che c'è! Bellissime! Chissà quando costa, ammettendo che è in vendita, è in vendita? Sì, è in vendita, Gisigno lo potrebbe portare in Italia quando vuole, perché lui e Junior sono... Sono fratelli di Lecce? Ma quante mammelle c'aveva la mamma di questo Gisigno? Tutti i fratelli di Lecce erano? C'è la centrale del Lecce? Ehi! 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 Disculpe! Disculpe! Oggi tengono tutti i grandi sete! Tutti i grandi sete! Junior è Noss! 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 Ha detto di Noss! Aveva sentito in più! Noss non ha firmato, non ha firmato Junior, perché non ha firmato l'opzione! Ah, ero appunto venuto a dire a vostè! Sì! Non è il problema, tengo altro sul Sao, altro fratello di Lecce! Ma sì, è inutile piangere sul Lecce, Versao! Se non mi mettete su un aereo per l'Italia, andrò stasera, io vi denuncio all'autorità brasiliana, capito? Ma guarda che l'appendizia, prima o poi la dovevi togliere! Che devo venire in Brasilio per fare il mio operato! Buono, ti si rompono i punti! Ah, è cominciato la partita! No, 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 no! Chi è? Signor Canà! Cisigno! E sto a chi? E sta lì! Vieni a subire! Ancora devo subire, è una settimana che hai subito sempre! Non subire, salire! E allora diciamo salimo! Salimo! Canà, te ne ho una notizia molto importante! Mi hai fatto operare il testicolo della Maradona, perché voi siete capaci di questa? No, le voglio mostrare un miglior giocatore del Brasilio! Un autentico pelè in erba che ho scoperto io! Bravismo! Che ne dite? Madonna, benedetta il cocco vedo, come mi brucia! Mira Canà! Mira Canà! Mira Canà! Mira! Mira Canà! Oh, mi state ringoglionendo? Non so che sto al Maracanà, perché mi gridate le orecchie? No, mira Maracanà! Mira Canà! Mirare! Guardare! Mira Canà! All'estate o pelè, tua perla negra! Inappetente il tuo amico, eh! Adesso è un periodo che è così, una volta invece si mangiava! Cerca di sforzarti, Gigi, mangio qualcosa! La prima, che è la cugina! È la setta! Cioè la prima è la terza! È la quinta persona che dice la prima! No, perché è mia zia! Sennò sarebbe cugina! Porto una bella quinta, ma è la prima! Senti a me il quanzino, non me la prega niente! Vuole sapere questa ghezza di cugina di aeree! Dove è che vuole più fare? E' che vuole più fare? E' che vuole più fare? E' che vuole più fare? Adio! Adio! Canà! E' la prima di aere! E' questa! E' buona veramente! Oh, e? Vamo s'ambra? Sì, sì! Vamo! Sì, sì!